Ecco, allora, iniziamo questa lezione del lunedì, inizio solo rubando 5 minuti per un avviso e mezzo, un avviso e un ragionamento, diciamo così. L'avviso è relativo a quel messaggio che ho riportato qua sulla slide e che è già comparso, ve l'ho già messo sul canale General, su Slack, che fa riferimento all'avvio del servizio di tutorato. Quindi sapete già che per i corsi di analisi, mi parla anche di chimiche, ci sono delle ore in più cosiddette di tutorato e anche ovviamente informatica, finalmente siamo riusciti a completare tutto il processo non banale di selezione delle persone, eccetera, eccetera. E quindi noi siamo in grado, dalla settimana prossima, quindi non questa, ma dalla settimana prossima del 2 novembre, di offrire anche noi un servizio di tutorato. Come funziona? Ci saranno dei borsisti, quindi studenti un po' più grandi di voi, analogamente ai studenti che ci sono, diciamo così, nelle ore di laboratorio, che sono studenti come voi ma di qualche anno più avanti, quindi hanno preso queste borse di studio per svolgere questa attività di servizio e di aiuto nei vostri confronti. La stessa cosa avviene su questi tutorati, che non sono inseriti nell'orario del corso, sono ore di consulenza aggiuntiva da parte di questi borsisti. Quindi potrete, adesso poi i borsisti si organizzeranno, a volte proporranno degli esercizi, ma molto spesso ne potete fare uso per chiedere, se avete dei dubbi, se avete un esercizio che non vi viene, se non siete sicuri di come avete fatto qualche cosa, potete trovare qualcuno con cui, diciamo, parlare anche più liberamente, individualmente o in gruppo. Allora, c'è un certo insieme di orari a disposizione per noi del corso 4, insieme a tutti gli studenti del blocco di corsi da 1 a 6, che abbiamo tutti lo stesso orario, i borsisti per il tutorato saranno disponibili al mercoledì dalle 2.30 alle 4, che dovreste avere l'ora libera. Ci saranno due aule diverse, quindi due borsisti che lavorano in aule separate, in parallelo, per dividere un pochino anche il carico vostro. Allora, la settimana prossima, come dicevo, questa settimana non c'è ancora nulla, da mercoledì successivo, quindi mercoledì 4 novembre, una cosa del genere, ci saranno queste possibilità, vi invito veramente a sfruttarle, nel senso che se avete dei dubbi, delle difficoltà, eccetera, abbiamo questa possibilità in più, e quindi, diciamo così, cercate di farne buon uso, ecco, cioè, sarebbe un peccato che voi magari rimaneste con qualche dubbio, o con qualche difficoltà, e non sfruttasse questa possibilità in più che viene offerta. Chiaramente sono ore extra rispetto alle lezioni normali, non si spiega nulla di nuovo, non sono ore obbligatorie, eccetera, eccetera, ma sono un servizio in più. La settimana prossima, quindi, vi distribuirò con più dettaglio il link per entrare in queste aule, diciamo, di consulenza, in quello radio che ho specificato. Questo è un invito soprattutto per chi incontra delle difficoltà, ok? Quindi, io so che questo corso è abbastanza, come è normale, spaccato in due. Chi vorrebbe far di più, chi, diciamo così, vede che si trova bene e vorrebbe andare più veloce, e chi invece sta ancora avendo delle difficoltà. Ecco, io vi chiederei solamente di non intasare i tutorati con delle domande, diciamo così, troppo avanzate, o perché volete capire meglio, ma lasciarle più a disposizione di chi effettivamente ha delle difficoltà. Ecco, su questo tema volevo condividervi il risultato del sondaggio che abbiamo fatto la settimana scorsa, così tanto perché io il venerdì, visto che non ci vediamo, non ci sentiamo, vi rompo le scatole con i sondaggi, ma non lo farò sempre, promesso, però visto che siamo grossomodo a un terzo del corso circa, quindi siamo alla quinta settimana su 14, quindi facendo male i conti siamo circa un terzo del corso, volevo avere un attimo il polso di come stava andando dal vostro punto di vista. Allora, io mi rivolgo soprattutto, vabbè, sul punto 1 e 2 va bene, che costituiscono grossomodo metà del corso, però l'altra metà del corso ha risposto a qualche cosa che va da 3 a 4, 5 a 6, dove c'è una notevole quantità di persone che ha difficoltà sugli esercizi, oppure anche su alcuni concetti, diciamo così, sulla comprensione di alcuni concetti. Allora, io rivolgendomi a queste persone vi chiederei veramente di farvi vivi, no? Farvi vivi, facendo domande, proponendo esercizi, dicendo cosa non trovate semplice, quindi cercheremo in qualche modo anche di riuscire a sopportarvi, perché quello che succede normalmente durante le lezioni è che ci sono degli interventi, delle domande, ma anche, diciamo così, fuori dalla lezione, chi mi scrive quasi sempre sono gli studenti che, diciamo così, ricadono nelle categorie 1 e 2, che hanno fatto gli esercizi, gli vengono e vogliono un feedback, e va benissimo, però chi è, diciamo così, nella parte bassa di questa, non chiamiamola classifica, di questo sondaggio, di solito non si fa sentire, no? Non so se per timidezza, se per vergogna, se perché pensa di essere troppo indietro, ecco, non a caso, dicevo, siamo circa un terzo del corso, siamo al primo giro di boa, questa settimana ancora lavoriamo sui cicli, che sono cose relativamente ancora, diciamo così, digeribili, facilmente digeribili, però dalla settimana prossima, anzi, quella successiva ancora, vi anticipo già che la materia si farà un pochino più difficile, perché si aggiungeranno altri tipi di costrutti, che si aggiungono sommandosi a quelli precedenti, in tutte le combinazioni possibili, e quindi se avete già difficoltà in questa fase, è questo il momento di intervenire, ok? Perché se poi andiamo più avanti, non riuscite più a recuperare, in certo senso, ok? Quindi, consiglio numero uno, fatevi vivi, consiglio numero due, fate gli esercizi, consiglio numero tre, fate gli esercizi, consiglio numero quattro, fino al venti, fate gli esercizi, provate a farli, magari vivi in una schifezza, ma provate a farli, ce li mandate, appunto, siamo in tre docenti, potete scrivere su discussione, potete mandarlo direttamente a qualcuno di noi, se non ve la sentite, scriverlo pubblicamente, ma in realtà siamo qui per aiutarci, quindi non è un grosso problema, ok? Io, una cosa che non sono riuscito a capire, da chi ha risposto tre, ma per colpa mia, che ho fatto male alla domanda, è se questo non riesco, era un problema di difficoltà, o era un problema di tempo, cioè se non riesco a fare tutti gli esercizi, perché c'è poco tempo, oppure non ce la faccio, ecco, questo purtroppo ho scritto male la domanda, quindi non sono riuscito a distinguere, ma immagino che sia più un problema di non riuscire a farli in termini di difficoltà che non in termini di tempo. Lorenzo mi dice che ha problemi solo con gli esercizi più complicati, e questo ci può stare, chiaramente, però anche su questi, chiaramente noi cerchiamo di fornire il supporto che possiamo. Tommaso mi chiede dove pubblichiamo le soluzioni degli esercizi di laboratorio, e le pubblichiamo solitamente sul sito del corso, quindi se voi prendete il sito del corso, dove c'è tutto il materiale, se andate su laboratorio, abbiamo in basso laboratorio 1, soluzione proposta, laboratorio 2, soluzione proposta. Attenzione che le soluzioni dei laboratori sono un'arma a doppio taglio, anzi, di solito sono un'arma pericolosa per voi, perché se uno va a vedere le soluzioni senza aver provato a fare esercizi, ma provato sul serio, ok? Provato sul serio vuol dire anche arrabbiarsi col computer, arrabbiarsi con se stessi, arrabbiarsi con Python, col mondo, eccetera, ma almeno ci ho provato, e guardare le soluzioni fatte da un altro non permette di imparare nulla, e non permette di capire qual è la difficoltà che avete nell'affrontare l'esercizio. Quindi, io forse per me, personalmente, non pubblicherai nessuna soluzione, ok? So che lo chiedete, lo chiedete tutti, e allora alla fine cedo sempre, le pubblico, l'unico trucco è che le pubblico in ritardo, nel senso che noi abbiamo già fatto il laboratorio 3, questa settimana faremo il 4, e la soluzione del laboratorio 3 non le metterò fino a dopo, fino al fine di questa settimana, fino a dopo il laboratorio 4, proprio per darvi una settimana intera in cui non avete neanche la tentazione di andare a guardare. Le soluzioni non sono commentate, perché non sarebbe sufficiente, nel senso che io posso commentare il codice, magari qualche commento qua e là ci può essere, ma il commento aiuta già chi è entrato in un certo ragionamento, e quindi capisce la soluzione tecnica, come è risolto quel problemino. Però molto spesso il problema che incontrate, o che incontra qualcuno, è proprio quello di impostare il ragionamento. Allora, e quindi non basta commentare il codice, ma anche perché poi veramente, lo stesso problema si può risolvere in 200 modi diversi, ok? E quindi se voi vi fissate, vado a vedere come l'ha risolto lui, e poi cerco di far sì che il mio ragionamento vada in quella direzione, state sbagliando, perché state rinunciando a ragionare con la vostra testa. Quello che stiamo facendo, è gradualmente, grazie ad alcuni borsisti, grazie al fatto che siamo in 20 corsi, di pubblicare, via via, ma in modo disordinato, quindi non è una cosa sistematica, alcuni video in cui vengono risolti gli esercizi, in modo interattivo. E questo è molto più utile, è più utile perché si racconta il ragionamento, così come quando facciamo gli esercizi insieme, ci mettiamo un minuto, tre minuti a scrivere il codice, e trenta minuti a discuterlo, a chiederci come facciamo, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la parte importante, il ragionamento fatto insieme. Se voi andate sul sito del corso, questa è la mia pagina, la vostra sarà realmente diversa, c'è un bottone che si chiama Accedi ad Exercise, ok? Questa è un'area comune, condivisa, dove, se funziona, sono caricate, vedete che c'è una cartella che si chiama Materiale didattico comune, provo a ingrandirlo se funziona, e cliccando su Materiale didattico comune, ci sono essenzialmente, nuovamente, le varie slide, per il corso, ma sono le stesse che già abbiamo sul sito, eccetera, eccetera, e i testi di laboratorio, e vedete che a fianco di alcune è comparso un video soluzione, in questo qua soluzione, anche questo, no, questo qua in realtà è la soluzione, lo zip, e su altri non ci sono ancora, però, come dicevo, non è una soluzione sistematica, ma per alcuni laboratori ci sono alcuni video che mostrano la soluzione di alcuni esercizi, molta macchia di leopardo, perché, volontariamente, alcuni borsisti hanno deciso di regalarci, regalarvi questo materiale, questo può aiutare un pochino di più, però, lo ripeto ancora per la milionesima volta, ma lo ripeterò altre dieci milioni di volte, non c'è nulla che possa sostituire voi stessi che provate a risolverlo, potete vedere cento eserziti risolti, potete vederli commentati perfettamente, potete vedere un video in cui viene spiegato passo passo, ma se non ci provate voi non imparate nulla, quindi, io preferisco, onestamente, investire il tempo nostro a guardare il vostro compito, piuttosto che non a preparare del materiale in più che poi lascia il tempo che trova, ok? Cioè, non interviene su coloro che hanno difficoltà a impostare ragionamenti. Le domande che mi fate è, oltre agli esercizi di laboratorio, dove possiamo trovarne altri per esercitarci? Sul libro. Noi gli esercizi di laboratorio li prendiamo normalmente dal libro e alla fine di ogni capitolo ci sono veramente, al fine di ogni capitolo ci sono cento esercizi circa per ogni capitolo, quindi lì ce n'è sicuramente, diciamo così, in grande quantità e poi fate un gioco, cioè nel senso che quando ho finito un esercizio provate a modificarlo, ho fatto un esercizio che fa questo tipo di laborazione, ma se fosse, ma se fosse leggermente diverso, ma se in più dovessi fare quest'altro passaggio è di fatto un gioco di elasticità, una volta che ho capito il cuore di un esercizio e come si risolve, provo a modificarlo e così vedo come si modifica il codice al cambiare un pochino delle richieste, però come di esercizi sul libro ce ne sono molti. Paolo mi chiede se il programma funziona, l'esercizio tendenzialmente è corretto, funziona, è una parola impegnativa, funziona vuol dire funziona sempre, in ogni caso, in ogni condizione, allora se è così, sì, ovviamente il programma è corretto, poi può essere implementato in modo più furbo, meno furbo, più comodo, più leggibile, più ordinato e questo, vabbè, si può anche andare a valutare, però chiaramente se non funziona è sicuramente sbagliato, se funziona in 3-4 casi che ho provato è probabilmente giusto, se funziona in tutti i casi è sicuramente giusto dal punto di vista funzionale, più che funziona io punterei sul l'ho capito, ho capito come farlo funzionare, questo è secondo me l'obiettivo a cui dovete mirare. Altra domanda di un signore anonimo o signora mi chiede se in un'ora e mezzo di laboratorio si dovrebbe riuscire a fare tutti gli esercizi previsti o va bene riuscire a fare la maggior parte e vabbè, a parte quelli diciamo così assegnati per casa, però qui spunta la variabilità personale, io ve l'ho detto la prima lezione ci sono alcuni di voi che questa materia la agganciano più facilmente alcuni di voi che invece la prendono più lentamente ma questo è valido credo per tutte le materie ci sono materie magari più mnemoniche quindi chi è più portato per la memorizzazione le prende come una facilità estrema chi invece fatica a memorizzare le prende invece con molto più tempo è la stessa cosa qua noi cerchiamo di dimensionare i laboratori in modo che vi tengano sicuramente impegnati cioè che non che dopo mezz'ora andate a casa perché avete finito tutti è chiaro che chi è un pochino più lento ci metterà più tempo però ci sta ecco nella distribuzione gaussiana diciamo così dei vari skill è chiaro che poi quando ci avviciniamo per i laboratori non è un problema quando ci avviciniamo all'esame chiaramente l'esame ci sarà poi un vincolo di tempo e allora lì bisognerà anche un po' lavorare sulla velocità però su questo sono ottimista nel senso che sono poi molti ragionamenti che si ripetono si riprendono e quindi se uno magari all'inizio fatica un po' ma diciamo così ma riesce a completare il ragionamento poi il discorso della velocità viene da sé essenzialmente Antonio mi dice il mio programma funziona non capisco cosa servono le soluzioni perché potrebbero essere modi diversi di affrontare il problema allora da un lato è utile vedere lo stesso problema risolto in modi diversi quindi dice ah io l'ho pensato così ma tu guarda quell'altro l'ha pensato in un modo completamente diverso è vero si poteva anche fare così e quindi può essere utile per avere delle idee diverse da applicare in altri contesti questo è utile lo aggiungo e credo di essere d'accordo se ho capito cosa intende Antonio è utile se già prima me lo son fatto e quindi sono già arrivato al fondo o quasi al fondo allora mi vado a confrontare Giulio mi chiede dove possiamo trovare degli esempi di domande teoriche che ci saranno all'esame e queste le dobbiamo ancora preparare ma se andate a pescare dagli anni precedenti le domande teoriche le domande teoriche dell'esame quest'anno saranno praticamente allineate anche in realtà più semplici perché faremo del programma in meno di teoria rispetto agli anni precedenti però metteremo insieme diciamo così verso la fine del corso una dispensina con qualche domanda di esempio invece non sono molto d'accordo con il ragionamento che fa Alessio che mi dice almeno mi dai almeno una delle soluzioni e se proprio non ce la faccio il problema è che se tu vedi la mia soluzione poi ce la fai ce la fareste ricostruirla ce la fareste ad arrivarci questa è la domanda io credo che una soluzione svolta da qualcuno ma svolta insieme cioè la costruiamo insieme ci interroghiamo e andiamo a costruirla aiuti una soluzione vista finita quando io vedo un codice finito non so in quali passi è stato costruito e quindi diciamo formativamente è molto diciamo così inferiore poi chiaro che tutto fa tutto può aiutare sicuramente simulazioni d'esame sicuramente ne faremo nelle ultime due settimane sono dedicate solamente a fare esercizi d'esame Alessia mi dice se noi l'abbiamo fatto in maniera diversa come possiamo capire se è anche giusto il nostro procedimento allora uno se la soluzione se i risultati vengono giusti allora molto probabilmente è giusto come già dicevamo prima e due chiedete non c'è problema a me sembra che sia giusto ed è un'occhiata e noi lo guardiamo e diciamo sì ed è giusto possiamo confermare che magari anche quel caso è giusto oppure evidenziarvi magari un caso particolare in cui potrebbe non funzionare purtroppo non c'è nessuna meccanica non è come qua che quando fai una derivata o un integrale poi metti dentro Wolframalfa che ti rifai il conto e vedi se il risultato viene uguale questa è un'attività progettuale intellettiva e quindi non c'è alternativa al fatto che qualcuno che ci capisca guardi quel codice e dica sì a me torna no a me torna non capisco cosa hai fatto e cose di questo genere le domani di teoria in realtà non abbiamo ancora fatto nessuna ora di teoria e quindi sono sugli argomenti soprattutto sull'numerazione e sull'architettura dei calcolatori però sono argomenti che affronteremo quando saremo un pochino meno con l'acqua alla gola sulla programmazione e se ovviamente avete dei suggerimenti di qualunque tipo per aiutarci a supportarvi meglio soprattutto in questa parte qua progettuale ben venga lo ricordo ancora una volta la cosa più importante di tutto il corso è che proviate a fare da soli questi esercizi e se non ci riuscite chiedete aiuto all'esame verranno sfavorite soluzioni brutte intendo invece di fare un ciclo simile si fa un if per ogni soluzione di solito il testo d'esame non prevede che ci possano essere soluzioni di questo genere ma anche perché diciamo così sarebbe abbastanza masochistico farlo negli esercizi dobbiamo abituarsi a risiedere tutti i corner cases no nel senso che allora in generale un programma dovrebbe proteggersi contro qualunque schifezza di dato in ingresso l'utente gli inserisca però se ci mettiamo a fare un controllo accurato ogni volta che facciamo un input ci passano veramente mezz'ora per ogni dato da leggere allora cerchiamo è importante ma io lo farei in un secondo momento cioè io prima di tutto mi concentrerei sulla parte centrale dell'algoritmo qual è l'elaborazione da fare assumiamo che i dati siano corretti allora lì ci saranno dei corner case ci sono dei casi strani in cui i dati mi chiede che ne so di calcolare il massimo di una serie di valori e questi valori sono tutti uguali tra di loro allora quello è un caso particolare come lo gestisco ma è un caso particolare algoritmico quelli sono importanti poi in seconda battuta quando quello funziona vado a proteggermi sul fatto che i dati che siano inseriti in ingresso siano corretti nel formato giusto eccetera quindi sono diciamo così la regola generale è più importante l'algoritmo la parte il nucleo algoritmico dell'esercizio che non la parte più sintattica di forma di estetica eccetera eccetera poi un programma perfetto è perfetto sotto tutti i punti di vista però a volte si vedono dei programmi in cui hai le prime 20 righe bellissime fanno tutti i controlli sul fatto che i numeri lo spazio la virgola eccetera e poi dopo c'è un tre righe di algoritmo che fanno pena perché non hanno nessun senso alcuno sulla terra allora cercate di concentrarvi sulla parte importante sull'esame noi avevamo delle idee ma ce le hanno smontate quindi in questo momento non sono pronto a parlarvene con certezza nel senso che noi pensavamo di usare uno strumento che si chiama virtual live virtual laboratorio e quindi darvi la possibilità di collegarvi a un laboratorio a un pc virtuale su cui ci fossero installati gli strumenti questo forse è complicato e quindi le modalità le stiamo un pochino ripensando in questo momento ciò che è certo ci è arrivata la comunicazione ieri che tutti gli esami del primo anno saranno totalmente a distanza quindi non ci sarà una componente in presenza noi ci speravamo ma purtroppo ieri mi è arrivata la mail per questo oggi non vi so dire molto di più perché dobbiamo un attimo parlarci tra di noi per riuscire a capire cosa riuscire ad organizzare e la vera questione è quella che solleva Tommaso se durante l'esame riusciamo a trovare un modo per permettervi di provare il programma oppure no il vero problema è che se vi lasciamo usare il computer poi potete fare qualunque cosa con quel computer ovviamente molte delle cose che potete fare con il computer non sono adatte al momento d'esame e quindi bisogna trovare la modalità per cui però non vi so rispondere noi vorremmo permettere di provare il programma la nostra idea iniziale era quella ma al momento dobbiamo cambiare modalità perché quelle che pensavamo non sono possibili vi aggiorno appena ne so di più quindi quando sarà l'esame noi sappiamo le sessioni d'esame che quindi saranno dalla fine del corso il corso finisce mi pare intorno al 10-12 di gennaio mi pare che ci sia una settimana di pausa poi da lì in poi ci sono 6 settimane nelle quali ci sono due appelli primo e secondo appello le date esatte saperle nel senso che non le sa ancora nessuno hanno cominciato adesso a pensare a definirle comunque non chiedetemelo perché io normalmente le date le vengo a sapere lo stesso due giorni prima rispetto a quanto riuscite a saperle voi quindi non perché c'è una commissione che a livello di politecnico decide le date per tutti gli appelli non è il singolo professore che decide le date dei suoi appelli poi dunque allora Tommaso mi chiede quante volte si può provare un esame allora per favore non usate il verbo provare quando vi riferite è un esame perché è molto brutto al politecnico ci sono quattro appelli per ogni anno ogni appello è indipendente dagli altri nella sessione invernale quindi gennaio e febbraio ci sono due appelli per tutte le materie del primo semestre quindi voi avrete due appelli di informatica due appelli di chimica due appelli di analisi matematica questi sono indipendenti quindi potete sostenere entrambi gli appelli soprattutto se il primo è andato male potete sostenere il secondo e così via quindi sono tutti indipendenti l'uno dall'altro ogni esame ha quattro appelli nell'anno che sono posizionati in modo diverso secondo che l'esame sia del primo o secondo semestre e voi potreste sostenere tutti e quattro quindi non c'è nessun vincolo da quel punto di vista sicuramente quando usciranno sono le date degli appelli ci sarà il sistema di prenotazione su web sul portale sull'app per prenotarvi e poi vi diremo in gruppi ma queste se vogliamo sono sono cose diciamo così di dettaglio no Lorenzo non sono limitati i posti nel senso che voi tutti voi avete il diritto di dare l'esame ok se siete in tanti faremo più turni quindi magari in quel giorno lì c'è chi passa l'esame alle 8 e mezza del mattino c'è chi lo passa alle 10 c'è chi lo passa alle 13 e così via ok però in funzione di quanti sarete per questo è fondamentale il sistema di prenotazione perché in funzione di quanti siete noi dobbiamo dimensionare i turni e la logistica dunque poi c'era ancora una domanda di Suavo che dice le lezioni saranno in presenza per il momento continuiamo così nel senso che il giovedì è in presenza gli altri giorni online poi non so vedete cosa sta succedendo in giro quindi al momento il Politecnico ci ha detto che con la nostra occupazione dell'aula al 25% stiamo ancora largamente dentro le misure di sicurezza che sono state approvate ok va bene ce ne sono speso domande di Emanuele l'ho vista ma la riprendiamo magari offline per non portarci via dal discorso visto che le funzioni le faremo la settimana prossima e sono d'accordo con Daria che la possibilità di fare run è molto importante soprattutto cambia il modo in cui uno affronta l'esercizio per questo cerchiamo veramente di capire più presto cosa riusciamo a offrirvi ricordatevi siamo un terzo del corso quindi non siamo con l'acqua alla gola non siamo all'ultima settimana e quindi non vi daremo le regole d'esame due giorni prima dell'esame ma proprio appunto anche noi dobbiamo ridefinirle perché ci hanno cambiato le condizioni essenzialmente va bene quindi questo secondo me è stato utile un pochino per scambiarsi qualche idea ricordate che siamo sempre aperti a ricevere suggerimenti o richieste d'aiuto e se non c'è altro io eh no c'è altro no c'è altro Grazie a tutti.